ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale oggi facciamo il video dei grazie a te abbiamo un altro regalo di papo natale si 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 no mi è arrivato questo sufi si chiama cool maker cool creator c'è scritto 8 più veramente ma tanto ti aiuta la mamma va bene allora vediamo tutto cosa c'è scritto sufi qui si iniziano già a vedere i fili poi qui c'è il libretto per scegliere quali braccialetti vogliamo fare creatore di braccialetti fabbrica 10 braccialetti si gira giro giro guardiamo un po anche dietro e allora qui ci fa vedere come è fatto dietro c'è una bambina che fa i braccialetti con tutti gli accessori che ci sono dentro questo è per misurare come deve essere lungo il filo c'è scritto vedi più di 80 rocchetti e poi separatamente si vendono anche kit soltanto di rocchetti di filo se uno vuole farne altri quando ha finito i fili io vorrei questo allora adesso iniziamo via dai iniziamo a vedere cosa c'è dentro ma io voglio vedere tutto il macchinario è sbarbato tutto perfetto vediamo se riesce ad aprirlo eccolo un altro pezzetto di scotch ce l'abbiamo fatta allora queste sono le istruzioni le veri istruzioni soffì vedi tutto il metodo prendi e girata davanti vedete e si stacca quindi nel genere che sono faccio il coso che ah mi sono fatta male ecco lo sapevo abbiamo fatto la prima fuje secca ti ho detto tira fuori tutto per venire dopo lo vediamo e te subito vai allora togliamo mi hai detto chicciare quello che non devi tocchicciare lascia fare a me un secondo faccio vedere cosa c'è dentro allora dai c'è il macchinario da montare qualcosa che mi sono andato a cuce secca è questo la cosa che ti sei fatta a cuce secca questo l'abbiamo montato qui e poi abbiamo tutto il kit aspetta 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 faccelo vedere bene guardate quanti rocchetti ci sono c'è il rosa il fucsia il viola il giallo e questo verde tiffany è un verde acqua marina che colore è questo questo è il misuratore alle etichettine adesive che ci servono per chiudere braccialettini si e poi ci mettiamo questi che servono le chiusure tanto si toglie il maglione perché sennò si misura anche il maglione invece che il braccio di soffì e poi si fa così così va bene è troppo grande e guarda un po' no non deve uscire perché c'è la chiusura e finisci farlo all'uno sì l'uno l'uno così l'uno perfetto chissà se soffì farà un braccialetto anche per la mamma dopo ma certo io però però voglio fare questo qua queste sono tutti gli esempi per fare il braccialetto io vorrei fare questo soffì aveva scelto questo adesso ve lo faccio vedere più da vicino buttercup vi dice che colori servono e dove devono essere messi quanti rocchetti ci servono in tutto adesso leggiamo le istruzioni e poi vi facciamo vedere come si montano i rocchetti va bene a dopo poi scegliamo il disegno sofia scelto questo e in base a questo dobbiamo mettere i colori esattamente come sono messi qui allora li voglio mettere io si cosa ti serve giramela nel mio pezzo perché sennò non ci capisco qui ci va messo un giallo ok tieni allora come si mettono i rocchettini difficilissimo no non è difficilissimo vediamo se soffì ci riesce fatto vedete come è posizionato deve passare da sopra da sopra qua andare dritto bello teso verso qua dentro infila dentro e viene su adesso li mettiamo tutti adesso qui accanto ci va un azzurro ok devono essere poi tutti quanti aspettami ok numero 3 questi due si lasciano vuoti si poi due fucsia allora due fucsia questi due fucsia adesso il primo ve lo facciamo vedere tutto e poi dopo velocizziamo ok e poi riportate indietro poi un giallo pieni poi questi due vuoti e due azzurri ok dai inizia con uno poi con due quando abbiamo tutto sistemato lo facciamo vedere partiamo sì adesso è vero divertimento allora adesso li abbiamo messi nello stesso schema eccoli qua aspettami che li facciamo vedere due fucsia nel braccialetto che vuole fare soffì e qui aspetta soffì e qui li abbiamo fermati così bisogna chiuderlo li abbiamo sistemati tutti della stessa lunghezza adesso diamo a soffì la macchinetta chiudiamo qui aspetta li hai sistemati bene non devono andare fuori eh devono stare tutti quanti dentro perché sennò poi non funziona bisogna girare così adesso viene il divertimento adesso si diverte bisogna girare in senso orario c'è la freccia bravissima e dobbiamo fare il braccialetto posso fare? posso fare? dai partiamo sfigata la linea rossa deve allinearsi con le altre arriva la linea rossa poi lo facciamo vedere allora tenta un po' che c'è di fermati basta allora adesso facciamo vedere aspetta mi soffì perché qua aspetta mia vi faccio vedere qua ci sono delle linee rosse quando sono tutte tre allineate vuol dire che il bracciale è finito e dobbiamo mettere gli sticker per fermarlo allora il primo va messo qua su attaccato e l'altro va misurato e va messo all'altezza di uno si 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 lo mettiamo qui e lo giriamo bene allora ed ecco qui qui va messo lo sticker allora lo mettiamo qui abbiamo messo la nostra misura e poi bisogna tirare in su e poi bisogna tirare in su i fili fatto adesso che noi abbiamo la nostra misura guardate che bello vi piace? è fighissimo giusto? aspetta vediamo se si vede si si vede adesso noi dobbiamo riuscire lo dobbiamo tagliare qua e qua dopo questo ok Sofì? Sofì? guarda un po' che tagliuzia Sofì è presa dal lavoro la della macchinetta Sofì? mi piacciono gli ingranaggi Sofì? Sofì? che è sempre? allora tagliamo qua si taglia 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 fatto e poi Sofì cosa dobbiamo metterci? guarda un po' questo ci dobbiamo mettere la chiusura che non si apre però c'è anche un altro cosino da mettere prima della chiusura questi qui sono guardate le chiusurine non è pronta Sofì con il braccio? vedete? adesso arriviamo con il nostro braccialetto pronto e il braccialetto dell'amicizia di Sofì vedi qui ci sono troppi pennacchi dobbiamo tagliare un po' troppi pennacchi proprio che pennacchi e se ce la facciamo a chiuderlo chiuderlo ecco sì braccialetto facci vedere il nostro braccialetto dell'amicizia guardalo su così ne facciamo un altro ne facciamo un altro ne facciamo un altro ne facciamo un altro ne facciamo uno per te adesso ne facciamo uno per mamma? sì allora guardateci faccio vedere tutti i tipi che ci possono essere aspetta un attimo Sofì c'è sunrise starlight bell questo è un po' più sul rosa slumber party slumber party e poi da quest'altra parte abbiamo lux best friend forever bff dazzle buttercup che è quello che ha fatto adesso Sofì buttercup e sweetheart e dream beam allora Sofì scegline uno per mamma dai quelle vuoi questo dazzle allora vediamo abbiamo scelto prima però facciamo uno per te dazzle per Sofì e per la mamma abbiamo scelto questo lux pronti? facciamo prima quello per mamma via però prima lo prepariamo ok perfetto siamo arrivati adesso adesso cosa dobbiamo fare Sofì bisogna misurare il braccio di mamma vai così in quattro così facciamo l'amicizia insieme facciamo l'amicizia va bene vuoi essere mia amica? sì no ma se la mia amica è una mamma va bene ma è pronto per me per me mi lo metti te? sì chiudi fissa forte eh ancora la fissa secca eh no eccolo il mio braccialetto bellissimo mettiamoli vicini 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 i nostri braccialetti dell'amicizia ci piace questo gioco sì io voglio fare questo dobbiamo togliere tutti i rocchettini terminati questo è questo è e poi lo dovete rimettere in posizione iniziale eh Sofì mi raccomando sì mettilo un po' in posizione iniziale ok ci siamo sì di qua adesso li montiamo e poi giriamo e poi magia facciamo il giocato braccialetto per Sofì allora abbiamo sistemato tutto come sempre adesso tira giù la sopra Sofì e adesso dobbiamo girare ecco ancora appena appena vai basta fatto sotto quello sopra quello sotto quello aia attenzione a non fare la fissa secca eh ecco qua uno più largo e uno più stretto l'abbiamo fatto faccelo vedere qua da vicino aspetta Sofì eh aspetta tre braccialetti tre braccialetti due e poi quello di mamma tre ragazzi ve ne facciamo vedere un altro perché questo l'abbiamo fatto con 12 rocchetti quindi sono tutti quanti aspetta Sofì eh che lo facciamo vedere sono tutti quanti pieni non ci sono due vuoti di qua e due vuoti da là sono tutti pieni quindi abbiamo usato e tutti azzurri il numero massimo di fili sì Sofì ha scelto questa composizione sweet heart dai Sofì gira vediamo un po' piano è come prima piano gira gira questo Sofì lo facciamo leggermente più lungo perché perché essendo più grande come braccialetti se no non ti sta poi che facciamo a due come misura perché perché è più grande amore vai gira 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 piano senza fretta ancora 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 basta finito basta finito vediamolo un po' da vicino aspetta Sofì eh vediamo un po' se riusciamo a farglielo vedere come è venuto questo così rosa e azzurri con tutti i pallini come dice Sofì adesso facciamo la chiusura e lo mettiamo a Sofì andiamo a baci vi vedo ragazzi Sofì fa le magie cosa stai combinandola? vi vedo vi vedo vi vedo Sofì e la pazienza non vanno mai d'accordo metti di seduta dove siete messa? vai dai Sofì metti di seduta bene no vediamo un po' se ci sta eh sì questo l'abbiamo fatto un pochino più grande così ci sta vedi che è più grande questo? proprio come braccialetto eccoli là vedi? vedete più piccoli e più grandi mi cambia però questo mi dovrebbe stare qui allora se vuoi lo possiamo anche accorciare un pochino una volta che l'abbiamo fatto non si può più allungare ma accorciare sì accorcia va bene lo sistemiamo allora accorciare team ciugati mi raccomando condividete il mio canale con tutti i vostri amici sì e fateli iscrivere così diventiamo un team gigante tantissimo gattini e poi magari quando sarò un pochino più grande faremo un evento insieme tipo potremmo fare una persona qui da quanti saremo potremmo fare insieme la forma del gatto del gatto sarebbe bellissimo tutti i bambini uno qui 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 a forma di gatto e ragazzi spero tanto che questo video vi sia piaciuto mettete un like iscrivetevi al canale e sotto attivate la campanella e sotto nei commenti votate quale è il più bello e se ce l'avete anche voi questa macchina ciao 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 ciao